Il Comune di Cossato è stato uno dei primi a chiudere il bilancio, lo ha fatto proprio in un'ottica di attesa dei finanziamenti europei, quindi insomma si sta ragionando anche su questi fondi, ne parliamo ovviamente con l'assessore al bilancio, ci dica qualche dato. Allora i dati da cui siamo partiti per fare il bilancio, purtroppo vedendo tutta la situazione che c'è internazionale, si sa che ha aumentato l'energia elettrica, ha aumentato il gas, c'è stato il contratto della pubblica amministrazione che è passato, ci sono ristori dello Stato zero, non abbiamo più fondoni, non abbiamo più ristori, ci siamo trovati a partire da un bilancio con 470 mila euro in perdita. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo dovuto trovare delle soluzioni, le soluzioni che abbiamo trovato sono state quelle di cercare di rimodalizzare le tariffe, di tagliare il più possibile le spese che non erano necessarie e soprattutto era di dare quello che tanti comuni ho visto che non fanno. Tanti comuni, se voi guardate, il bilancio non l'hanno ancora provato perché non sanno come fare. Altri comuni non hanno più dato i servizi come pre-postorario, come le mese, soltanto una parte. Noi come obiettivo abbiamo detto va bene, siamo in questa situazione, però dobbiamo dare i servizi, quindi non abbiamo tolto il suo servizio, sempre con qualità come quella che era prima. Chiedo scusa, parliamo bene del rimodulare le tariffe che magari è la cosa che può preoccupare di più i cittadini. Che cosa significa in pratica? Sappiamo che sta aumentando tutto, ci dobbiamo preoccupare? No, non dobbiamo preoccuparci. È chiaro che le tariffe prima sono state rimodulate in base all'Ise. Prima avevamo tante categorie di Ise, tante fasce, adesso le abbiamo accorciate in base a dei calchi che sono stati fatti anche rispetto ad altri comuni. Non dobbiamo chiaramente preoccuparci, non è che le tariffe passano, faccio un esempio, da 10 euro e 50 euro. Sono stati fatti dei leggeri aumenti perché chiaramente tutto aumenta, facciamo l'esempio della mensa, chiaramente anche la Soriso che gestisce la nostra mensa aumenta il costo del carburante, aumenta il costo, come da tutte le parti, il costo degli alimentari, quindi dovrà aumentare anche lì qualcosa e noi dobbiamo coprire. Perché il Comune ha sempre avuto una copertura, cioè delle entrate sui servizi a domanda individuale, sul 30%. Se noi non avessimo toccato queste tariffe, la copertura sarebbe data ancora più bassa e non ce l'avremmo più fatta come Comune. Adesso la copertura è sempre stabile, siamo al 32%. Quindi vuol dire che sì che abbiamo rimodulato, sì che abbiamo toccato leggermente le tariffe, però non è una cosa così grande da mettere in difficoltà le famiglie che già in questo momento sono in difficoltà e lo sappiamo tutti. Grazie a tutti.